A San Nicolò, a Tordino, frazione importante alle porte di Teramo, si sta combattendo una battaglia di civiltà che vede contrapposti i genitori di bambini contro i proprietari dei cani. I genitori chiedono giardini senza cani e i proprietari aree verdi e recintate per far sgambettare i loro animali. Impegnati nel trovare una soluzione, i 5 Stelle di Teramo, che lanciano una raccolta firme di 100 giorni per sensibilizzare il comune ad individuare questi nuovi spazi. Questa iniziativa nasce proprio per le segnalazioni che ci sono venute, sia da parte di alcuni proprietari di cani e sia da parte dei genitori, che hanno tutto il diritto di portare i loro bambini in dei parchi puliti e sicuri. Così come il movimento è molto sensibile ai diritti degli animali, quindi ovviamente è un'iniziativa che ci ha visto molto coinvolti e molto attivi. Noi speriamo che in questi 100 giorni riusciremo a raccogliere il maggior numero di firme. Una campagna di civiltà comunque. Assolutamente. Speriamo che sia solamente la prima, perché è una civiltà per un comune avere un'aria cane in ogni quartiere. Ora abbiamo iniziato con San Nicolò, ma sicuramente sarà un'iniziativa che porteremo per ogni comune terramano. Come deve essere un'aria dedicata ai cani? Allora, innanzitutto è necessaria un'aria chiusa, un'aria verde chiusa, perché i cani hanno il diritto di correre e soprattutto di non portare la museruola. Per i fondi? Il costo di questo progetto si accederebbe intorno ai 30.000 euro, quindi non c'è bisogno di spendere delle cifre esagerate per rendere decorosa un quartiere o un'area. Si può firmare e si può firmare anche a Teramo Capoluogo? Sì, la raccolta firm è destinata a tutti i cittadini terramani. Ripeto, è semplicemente il primo passo che stiamo facendo per avere un'aria cane in ogni quartiere. Quindi cominciamo con San Nicolò. Aderite in tantissimi, perché potremmo avere un'aria cane in ogni quartiere. Aderite in tantissimi, perché potremmo avere un'aria cane in ogni quartiere.